Come ho cominciato già dall'inizio, non parlando di giocatori di nomi, sicuramente ci sono giocatori come Slimani con cui ho parlato, che conosco e che da poco ha cambiato la squadra. Sicuramente giocatore di valore, ma giocatore anche di esperienza di certa età che in questo momento forse è meglio che si concentri nel club e anche lui è uno dei giocatori che ho detto anche a lui che porta per lui non è chiusa. Quindi, Slimani è un giocatore di un livello di livello, credo che non è un'altra, ma credo che non è un giocatore di livello, ma credo che non è un giocatore di lavorare, e ho detto che il bambino sempre è un giocatore. daimen